Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovissimo video! Oggi vi porto delle maschere di Garnier super chiacchierate. Ed ecco qua queste super maschere che davvero ho fatto fatica a trovarle. L'ho trovata soltanto sul sito di Amazon perché dal negozio non c'era nessuna traccia. E la prima maschera è con acido ialuronico e estratto di anguria. È una maschera rassodante, segni dell'età. La seconda maschera è questa qui con vitamina C. È un'antifatica, è pele spenta e stanca. L'ultima maschera è questa qui alla niacinamide ed è una combinazione e skin. Se volete vedere quale utilizzerò di queste maschere, restate qui con me! La seconda maschera è quella di Garnier super chiacchierate. Ed ecco qua il mio risultato. Come vedete ragazzi sono davvero soddisfatta. Questa maschera funziona in solo 5 minuti. È una maschera con acido ialuronico e estratto di anguria. In questa maschera qua è venuto un tessuto con un'ampolla rassodante, efficace e approvata in 5 minuti. Sentiremo la pelle più soda e le piccole rughe di secchezza appaiono bisilmente ridotte. La pelle è come rivitalizzata. Provala anche quando senti la pelle stanca o poco soda, prima di un appuntamento speciale o cambio di stagione. E per ultimo questa maschera qua non contiene nessun ingrediente o derivato di origine animale. Sono davvero molto contenta con queste maschere qua di Garnier. Questa qua è proprio efficace. Non vedo l'ora di usare anche queste altre due. E siamo arrivati alla fine di questo video. E spero che il video vi sia stato utile. Se è così lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. E se anche voi avete acquistato queste maschere lasciatemi scritto sotto nei commenti come vi siete trovati. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!